In esclusiva su Canale 5 il concerto per la pace. Dall'auditorium conciliazione in una spettacolare serata si esibiranno artisti nazionali e internazionali accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino per un'edizione speciale a favore dell'emergenza ucraina di Missioni Don Bosco. Conduce Federica Panicucci, domenica in prima serata su Canale 5. God bless you.